Coraggio. Tenacia. Intraprendenza. Empatia. Aloy. The Placeholder. Arriva a Firenze una statua che tiene il posto a tutte le donne del passato che hanno fatto la differenza. Aloy, da emarginata a Eroi, ha trovato il suo posto nel mondo grazie alla sua diversità. Vivi la sua storia in Horizon Forbidden West e scocca anche tu la freccia del cambiamento.